Disaggi per alcuni utenti nisseni alle prese con le prenotazioni di esami diagnostici. Un cittadino ha segnalato in redazione di avere provato a prenotare una colonoscopia all'ospedale Sant'Elia utilizzando il sistema online del Sovracup, ma sulla schermata è comparso il messaggio di mancanza di disponibilità per le prestazioni richieste. Sulla questione il responsabile del CUP Alfonso Cirrone Cipolla ha spiegato che il sistema ha avuto qualche problema di rete e che in ogni caso è possibile contattare il call center per la prenotazione degli esami. In caso di priorità B, quindi di una certa urgenza, viene garantita la possibilità di effettuare l'esame in 10-15 giorni. In caso di esami programmati ma senza urgenze particolari invece i tempi si dilatano. Un altro cittadino ha invece segnalato che per la prenotazione di un'ecografia è stato trovato uno spazio all'ospedale di Niscemi per la fine di agosto, quindi entro due mesi, un range ritenuto piuttosto ampio dall'utente che deve anche spostarsi. Su questo aspetto il responsabile del CUP ha spiegato che bisogna prendere in considerazione quelli che sono i tempi dettati dalle liste di attese dal tipo di priorità, in base anche alle disposizioni del Ministero della Salute, e che gli esami vengono prenotati sulla base della formula degli ospedali riuniti, garantendo in una delle strutture della provincia la possibilità di effettuarli prima possibile. Sul fatto che i cittadini nisseni siano costretti a spostarsi, Cirrone Cipolla ha spiegato che lo stesso discorso vale per chi dalla provincia deve spostarsi verso il capoluogo, ma qui si potrebbe fare un ragionamento sui numeri dell'utenza, diversi tra un capoluogo e un piccolo centro. In ogni caso, consigliano i vertici del CUP, la prassi migliore è quella di chiamare il call center delle prenotazioni, attivo tutte le mattine fino al sabato e nelle prime ore del pomeriggio fino al venerdì.